Grazie a tutti ma sono diventi di invitarvi a questo evento in un momento di grande prosperità economica, finanziaria, morale e sociale abbiamo bisogno di un gruppo che ce lo faccia vedere direttamente da Milano al primo Secret Concert del Julius Talas ho in piacere di condensarvi direttamente da Milano ma col cuore nella martesana i cattivi maestri